E' stato trovato carbonizzato in un incendio di sterpagli, è successo in località Montecchio a Castiglion Fiorentino venerdì pomeriggio attorno alle 17.44. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo allertati dai passanti che avevano avvistato il fuoco. Nello spegnere l'incendio i pompieri hanno trovato la salma dell'uomo carbonizzata, si tratta di un 82enne residente a Castiglion Fiorentino. E' stato quindi allertato il 118, ma i sanitari a loro arrivo hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo. Sulle cause indagano i carabinieri, l'ipotesi è che l'82enne sia stato colto da un malore mentre bruciava alcune sterpaglie.